Sportivi per il ventitraesimo anno consecutivo. Ritorna Universo Dilettanti, tutto il calcio dilettantistico curato da Antonello Merenda. Dalla serie D alla seconda categoria, in diretta dalla sede di Radio Studio 95 Melito TV e in contemporanea con Radio Azzurra, Latte e Miele, Radio Medua, Radio Eco Sud e in streaming su www.radiostudionovantacinque.it. Ogni sabato e domenica. Scarica l'app Radio Studio 95, ci puoi ascoltare ovunque con il tuo telefonino. Universo Dilettanti, con Antonello Merenda, il programma Number One. Primo appuntamento, sabato 9 settembre.